Buongiorno a tutti, oggi è il 24, vigilia di Natale E alle mie spalle vedete il super albero In Germania l'albero si fa il 24 mattina, i regali si aprono il 24 sera E poi per il resto è come in Italia, si mangia, si mangia, si mangia, si mangia Continuamente Abbiamo fatto l'alberello, vi piace? Vi faccio vedere Quest'anno abbiamo omini, mele e paglia Perché a differenza dell'Italia E guardate questi biscotti Questi sono biscotti che si mancano per i bimbi In tv c'è Piccolo Lord Cosa da pazzi Quindi niente, il programma è 4 del pomeriggio chiesa Poi dopo siamo a cercare da mia cognata Si aprono i regali Domani mattina Pranzo qui, domani pranzo qua A casa di mia suocera Questa è casa di mia suocera Che ne dite? E fuori? Sorpresa delle sorprese C'è la neve! Guardate qua No, non c'è la neve Era uno scherzo Non c'è neve, fa caldo Ieri sera eravamo a Stoccarda Siamo stati in un bellissimo pub Con la mia nipote e il suo ragazzo Ci siamo divertiti Faceva un caldo assurdo Il giapponese è andato alla grande Come avete visto dal video di ieri Bella serata, davvero bella serata E oggi sarà una bella giornata Quest'anno abbiamo deciso che facciamo Regali a secchi Siamo così È una nuova tendenza del 2015 Regali a secchi È una secchiata di regali praticamente Tu arrivi a Natale E invece di spacchettare Ti piove addosso una secchiata di regali Quindi attenzione a cosa mettete Perché noi per esempio abbiamo messo Una bottiglia di spumante Quella quando arriva in faccia fa male Però fa parte del gioco Puoi schivarla oppure prenderla al volo E il gioco è questo Che ne dite? Parlo la telecamera Siamo pronti Per andare in chiesa Sono le quattro E qua invece che andare a mezzanotte come in Italia Qua andiamo alle quattro Perché c'è il racconto della storia di Natale per i bambini E quindi per i miei nipotini Li portiamo a quest'ora qua Forse E poi facciamo una passeggiata verso casa La chiesa è vicinissima a casa Di mia cognata Ludwigsburg E poi una bella cena di pesce in teoria Perché se abbiamo risolto il problema pasta Ma credo di sì Abbiamo un'orata Per il secondo E filetti di Un animale E un pesce strano Che non sappiamo tradurre in italiano A dopo ragazzi Mi raccomando Ci vediamo in chiesa Gute hochheilige Pfarr E un pesce strano Grazie a tutti. Grazie a tutti.